Ciao a tutte ragazze, bentornate! Oggi nell'arte ispirata alla fantasia Boreberry. Seguite il tutorial per capire come si fa. Dopo aver steso una base trasparente per proteggere la nostra unghia naturale, stendo uno smalto rosantico su tutta l'unghia e faccio asciugare. Con uno smalto bianco traccio una linea sinistra, non molto sottile ma abbastanza spessa, lungo tutta l'unghia. Adesso con uno smalto da anel art rosso a punta sottile traccio una linea verticale che passa per tutta l'unghia. Ne interseco un'altra orizzontale e con lo smalto da anel art nero vado a contornare la linea bianca spessa. Adesso aggiungiamo due linee orizzontali. alla fine basterà passare soltanto un top coat per fissare il tutto e l'anel art è completa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa anel art e sotto nell'info box vi lascio il link del post di questo smalto rosantico. Ciao ragazze, un bacione e condividete il video se viva! Grazie a tutti